bella a tutti ragazzoni benvenuti sul mio canale oggi ritorniamo se football 2024 oggi è tornato michael owen mai prediction fu più corretta parte che era abbastanza scontato insomma ormai non vedevo altri leak a disposizione quindi si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardo l'arrivo il ritorno sui football di michael owen prima di andare avanti lo sapete quando lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti e lasciate sempre tanti bei like di supporto ragazzi è un gruppo telegram dedicato a dei football tutto sotto il link in descrizione mio canale twitch per venire a vedere in live dove smadono spacchetto ci divertiamo in cop tutto in diretta nei prossimi giorni penso giovedì con la nuova season verrò in live sul mio canale youtube qui quindi mi raccomando seguitemi al top speriamo che l'aggiornamento la nuova season porti nuove cose non porterà niente di innovativo sicuro al cento per cento a meno che non ci vogliono sorprendere con anima non penso proprio però diciamo che alla fine della fiera vedremo un pochino quello che sarà tutto in diretta qui su youtube e oltre questo qualora decideste di investire su michael owen mi raccomando passate tramite il link in descrizione dove c'è appunto instant gaming dove potete trovare gift card a prezzi scontatissimi detto questo andiamo a vedere i nuovi giocatori e i nuovi eventi di quest'oggi nuovi per modo di dire eccoci qua ragazzoni con il nuovo pacchetto english league attackers con low owen e appunto okazaki giocatore clamoroso ragazzi non potete perdere okazaki partiti scherzi mi sembra un pool già vedendo i nomi abbastanza schippabile c'è owen che è devastante ma non sotto notate neanche questo low opportunista con booster sul comportamento offensivo controllo palla finalizzazione accelerazione quindi lo specifico istinto da attaccante di base comunque un giocatore che può fare vedendo la mappetta che voi non vedete ma lo dico io può fare la seconda punta e la prima punta ovviamente essendo anche opportunista in un attacco a due penso potrebbe giocare anche molto bene quindi un 4 4 2 un 4 3 1 2 insomma un attacco che sia composto da un mare un vista creativo che faccia la seconda punta e lui da punto di riferimento ecco comunque il giocatore sembra molto molto interessante secondo me rispetto alla carta dell'anno scorso epica a qualcosa in più abitato il giocatore controllo di suola colpo di testa tiro salire lancio lungo finalizzazione acrobatica colpo di tacco tiro di prima passaggio di prima passaggio filtrante e leader un giocatore secondo me davvero interessante ovvio non è livelli di golite dice 5 però nel complesso è un giocatore validissimo il controllo corpo un pochino mi fa storcere il naso perché non è altissimo e 1 75 ai livelli di kylian bapé però kylian ovviamente è un controllo corpo più alto rispetto a lui 31 livelli di crescita non è affatto male giocatore secondo me che sarebbe da provare curioso ma non da andare a girare in maniera ossessiva compulsiva come per gol it il top player del pacchetto michael owen opportuista anche lui il booster ce l'ha e lo sapevo ragazzi sulla velocità accelerazione controllo corpo esistenza dicevo ieri nel video riguardante comunque la rubrica del nerd che secondo me avrebbe avuto il booster sulla velocità e in questo caso visto che lui ha tanta velocità di base basta di qualche punticino e secondo me per completarlo ragazzone andate sul dribbling sul passaggio che tanta tanta roba per quanto riguarda appunto il booster sulla gita per quanto riguarda invece le abilità colpo di testa a giro dall'istante pallonetto mirato fin dall'inizio combatica colpo di tacco a tiro di prima esterno agire speciali strigori e astuzia per quanto riguarda le abilità io gli metterei per forza come fece anche io col big time l'anno scorso passaggio di prima nella maniera proprio proprio deve essere l'abilità principale perché lui comunque il pallone purtroppo non sa passarlo bene un po come per romario un po come per saviola però lui a maggior ragione ha bisogno di passaggi di prima poi il direttore a doppio tocco per forza e colpo di testa c'erano in abilità per uno che è alto 1 e 73 po strana però ci sta a sto punto ragazzoni vedendo anche da poca potenza gli andrei a dare un bel tiro a salire e poi vede un po voi spirito combattivo probabilmente non ha tanta aggressività a questo punto scegliete voi magari un bel tira scendere o tira salire oltre doppio tocco e comunque passaggi di prima e poi scegliete voi dagli abilità di passaggio o poi dai passaggio calibrato però non so quanto possa essere influente visto che ripeto statistiche alla mano di passaggio lui fa schifo quindi vedete un po come decidete di gestire questo giocatore soprattutto dove lo mettete perché è un giocatore sì che fa la prima punta in un attacco a due potrebbe rendere benissimo ma in un attacco a tre probabilmente lui fa la seconda punta quindi gli andrei a provare a disegnare una nuova posizione visto che lui di base potrebbe fare la seconda punta c'è il colore verde scuro per quanto riguarda la posizione andando a dare una nuova un nuovo programma aggiunta posizione potrebbe essere interessante metterlo sp però vedete sempre e comunque voi per me rimane un ottimo giocatore in attacco in un attacco a due per quanto riguarda invece l'ultimo ed è ultimo veramente o kazaki senza palla ragazzi questo giocatore non ha neanche bisogno di presentazioni è un giocatore secondo me davvero scassino che è una seconda punta sì ma è anche discreto nella fase difensiva è un giocatore senza palla quindi fa dei movimenti ad attacare lo spazio senza palla logicamente il booster ce l'ha sull'aggressività sull'accelerazione sul contatto fisico e sulla resistenza tutto campista e booster le abilità sono un colpo di testa fin dall'edizione acrobatica tiro di prima astruzia tornata dominio palle alte ed è alto 1.74 perfetto riserva il uso spirito combattivo ragazzi questo è veramente un bovo scarso ma poi tra l'altro essendo giapponese mi aspettavo che gli mettessero il mio doppio tocco invece così non è stato è un giocatore che ha poco dribbling e ha tanta aggressività tanta accelerazione di base intendo hai visto anche il booster contro il corpo ok boh a me non fa impazzire 33 livelli di crescita giocatore secondo me per questo meta dove ormai tutti sono pompatissimi direi che è una roba che andrebbe addirittura pensate che vi dico quasi scartata se non per la collezione comunque lascia il tempo che trova niente pacchetto secondo me che si ripetono il complesso si può schippare se dovete andare a buttare qualche moneta fatelo nella maniera più più onesta possibile per bull it detta sinceramente per quanto riguarda invece il giocatore di risalto c'è questo sacca che guardando anche la mappetta perché c'è lo schermo dalla play sulla destra può fare sempre soltanto l'esterno c'è l'essere terzio sinistro sempre la solita roba non ha assolutamente il doppio tocco ea 26 livelli di crescita è paragonabile ai poti o i poti del campionato e quello di del champions direi che siamo uguali stessa identica roba poi c'è questo o il mondo opportunista che anche qua molto interessante ma poche abilità che questo beum beum ok tutto bene poi c'è questo eze trequartista 29 livelli di crescita un po bassi ai livelli per questo eze che potrebbe essere molto interessante forma fisica incrollabile doppio tocco elastico scocchetta l'animale un bel gioco è buggato questo però assolutamente non vale la pena andare a girare per lui poi c'è la nuova versione speciale di muddry che non usceva da una vita doppio tocco le servei lusso penso io per era vabbè insomma le carte speciali come sembra anche abbastanza scassine questo isaac 32 livelli di crescita sarebbe da provare ma non andrei mai a girare un pacchetto per isaac e basta ripeto anche nei giocatori speciali non vedo niente di che valutazione finale easy skip per quanto riguarda invece gli eventi che vengono riproposti ormai settimanale stavolta è caratteristico dell'english club quindi qua dovete utilizzare una squadra immagino qui ci dà il 50 volete football ragazzi qui è un evento contro giocatori reali voi selezionate una squadra della del della premier fondamentalmente io da prendere l'arsenal perché ho un sacco di giocatori dell'arsenal appunto e facendo tutti questi tre scenari vi portate a casa uno dei 50 volete football 2 un programma aggiuntabilità e al terzo due programmi aggiunta abilità questo evento da fare appunto contro giocatori reali contro li ha sempre english club però qua dovete creare una formazione composta da tutti i giocatori che militano nella premier league e avete un drop di punteggio più alto per completare l'evento e qui ci dà un programma aggiunta a posizione che prima ci veniva dato il bonus login di settimana scorsa e adesso ce ne viene dato uno a settimana fino a quando non si degneranno di darcene di più perché davvero hanno creato questa cosa ma veramente darli con contagocce dire e fare già un complimento ragazzi che dirvi non c'è più niente da analizzare il solito aggiornamento del lunedì abbastanza schiarno di roba vedremo se giovedì con la nuova season arriverà qualcosa io penso che non arriverà niente metto le mani avanti e perché comunque a fine un reset della del campionato il stop è brutto da dire brutto da dire ma proprio la svegliata questo gioco non ce l'ha mai avuta e siamo sempre lì a parlare delle stesse robe analizziamo sempre i soliti eventi analizziamo le carte che sono la vera novità di ogni aggiornamento che possa essere lunedì o il giovedì perché lunedì arrivano gli epici giovedì arrivano qualche volta gli epici o gli showtime con i potonessi che ormai abbiamo constatato che fanno tutti veramente schifo e non c'è niente da fare questo è l'andazzo che ha preso questo gioco al momento io non vedo che una mi partecipe di questa cosa del voler dare una svecchiata al gioco e dare qualche novità si hanno messo il programma aggiunta a posizione ma nel complesso rimane tutto completamente randomico secondo me ci sono tante cose da aggiustare anche soltanto se vuoi farlo rimanere così sto gioco perché comunque il campionato di football gli va data una svecchiata hai pass partita gli va data una svecchiata e se vogliamo guardare anche un pochino gli eventi gli va data una svecchiata perché sono uguali da due anni almeno questa cosa fa abbastanza ribrezzo per quanto riguarda anche sostanzialmente i contratti mirati i potus sono scandalosi insomma se dovessimo guardare tutto quello che andrebbe sistemato se non le carte epiche sono devastate il gameplay il gameplay sarebbe una roba bellissima da analizzare però sappiamo benissimo che il gioco è questo detto ciò fatemi sapere voi cosa ne pensate ragazzoni dagli tutta like per supportare iscrizione che non sei ancora fatto rodo tu 4.000 iscritti su youtube è un obiettivo importantissimo siamo quasi a 3.870 mancano 130 iscritti e meno di un mese dagli tutta che con una buona giornata e come sempre buon game ciao belli